Il Medicinema ha un suo protocollo di procedura interna che oltretutto riguarda molto la cura del paziente. Noi non solo portiamo i contenuti negli ospedali ma ci occupiamo, chiaramente non del trasporto dei pazienti, ma ci occupiamo del paziente quindi con un protocollo che riguarda tutto quello che faranno i nostri volontari sulla raccontare a ogni singolo paziente che cosa faranno nel coinvolgerlo, nell'andare a invitare singolarmente camera per camera ogni volta, quindi questa è una cosa che già facciamo e che è il punto importante di questo progetto. Perché l'iniziativa è talmente brillante e condivisibile che credo non ci saranno problemi, per cui per quanto mi riguarda è garantito e ci daremo da fare attraverso l'associazione per farvi avere altri colleghi, registi e anche attori. Grazie. Grazie, Francesco. I momenti della mia vita, i momenti molto difficili, quando forse ti senti ammalato anche se non lo sei, i film mi hanno spesso, anzi quasi sempre, fatto uscire da quel tipo di malessere, diversi film.